Asus PhonePad PhonePad è la seconda famiglia che abbiamo all'interno della categoria tablet in Asus abbiamo MemoPad e PhonePad PhonePad è un prodotto che è arrivato in Italia ad aprile nella versione 7 pollici ha riscosso un fantastico successo e oggi al Computex Type A abbiamo presentato un fratello minore minore semplicemente per la dimensione dello schermo perché è un 6 pollici con uno schermo Full HD infatti il nome completo del prodotto è PhonePad Note Full HD 6 e è particolarmente interessante perché va a posizionarsi in quella categoria che ormai molti chiamano phablet quindi phone e tablet è appunto una categoria che coniuga le esigenze di chi vuole navigare e nello stesso dispositivo avere la funzione telefonica con PhonePad Note Full HD 6 possiamo navigare e usarlo anche per prendere delle note da qui nel nome abbiamo messo questo suffisso Note infatti vediamo in questo modello esposto anche una stylus, un pennino che permette di scrivere e prendere appunti manualmente sul telefono si tratta di un prodotto, abbiamo detto, con lo schermo Full HD con due speaker, uno in alto e uno in basso per dare una resa audio di alto livello, stereo ovviamente e arriverà sul mercato con l'ultima versione di Android che in questo momento è la 4.2 Asus PhonePad Note Full HD è previsto per la fine dell'estate a cavallo diciamo con l'inizio dell'ultimo trimestre dell'anno Asus PhonePad Note Full HD